Dopo la pausa agonistica di fine ed inizio anno torna il calcio giocato e tornano in pista le tre squadre gelesi che militano nei massimi campionati regionali. Domani si aprirà il girone di ritorno tanto in eccellenza quanto in promozione. Il Gela, maggiore espressione cittadina, riprende da dove aveva concluso il 2015, ossia in trasferta. Sarà il comunale di Raffadali infatti a tenere a battesimo il 2016 agonistico di Capitan Alessandro Bonaffini e compagni. Lo stesso campo dove meno di due anni fa il Gela conquistò la Coppa Sicilia nella finalissima vinta nettamente contro il partinico audace. Era il Gela dei record che con Peppe Misiti in panchina trionfò al termine di una stagione davvero entusiasmante. Adesso i delfini bianco-azzurri sono alle costole della capolista sancataldese che al giro di Boa stagionale ha chiuso con un solo punto di vantaggio sui gelesi. A Raffadali dunque si riaccende la caccia alla leadership del girone di eccellenza per l'undici allenato da mister Totò Brucculeri. Sempre domani alvia anche la fase discendente del torneo di promozione dove nel girone D comanda la Nissa ma c'è una squadra in forte risalita e questa è certamente l'atletico Gela del presidente Cristian Paradiso. Il patron giallorosso ha portato alla corte del suo allenatore Misiti nel corso della finestra invernale della campagna trasferimenti fiordi giocatori di grande qualità. Su tutti il bomber Liborio Scudera, capo cannoniere indiscusso nella scorsa stagione di tutti e quattro i gironi siciliani di promozione. Il team giallorosso riprenderà da una gara casalinga sulla carta alquanto agevole. Al Vincenzo Presti di fatti domani sarà di scena il Ravanusa e per Capitan Davide Aja e compagni non dovrebbero esserci grossi problemi per incamerare i tre punti ma guai a farsi i conti senza l'oste. Infine viaggia e si reca a Castel Termini il Macchitella Gela che dopo le tre sconfitte di fila con le quali ha chiuso il 2015 vuole adesso provare a riprendere a marciare anche perché bisogna evitare di finire nuovamente nelle sabbie mobili delle zone pericolose della classifica.